Dal suo punto di vista, qual è il dono più bello del Vaticano II che ancora va elaborato e calato nella realtà della Chiesa di adesso? Mi pare di vedere che siamo un'unica umanità, un'umanità creata in Cristo, voluta in Lui, e quindi che la Chiesa ha il compito di essere un segno di quello che è il destino che riguarda davvero tutti gli uomini e di collaborare per quello che può, per quello che riesce esattamente a questo destino dell'umanità tutta.